E' stato Lorenzo Tucci con il suo trio, uno dei protagonisti della 21esima edizione di A Tessa in Jets. Applauditissimo nella città che gli ha dato i Natali, Tucci, batterista affermato nella scena Jets nazionale e internazionale, ha proposto al pubblico il repertorio tratto dal suo ultimo CD Trinity, omaggio ad una delle icone del jazz. Sono delle composizioni appunto di John Coltrane, è stato un grande compositore. Nel disco ho inserito dei brani originali, elegantemente eseguiti anche dai miei colleghi, compagni di avventura, che sono Claudio Filippini e Luca Bulgarelli. Insomma a Tessa apprezzano molto la musica e soprattutto il jazz e quindi per me è una grande emozione. A volte capita di suonare in posti enormi, plate bellissime, magari anche all'estero, a New York, che è la parria del jazz. Però a volte suonare in un piccolo paese appunto, come a Tessa, che è il mio, è sempre emozionante, è la cosa più bella. L'amministrazione comunale di A Tessa è riuscita, grazie al soccorso di sponsor privati, a garantire un'edizione completa del festival, che gode ormai dell'affetto di un pubblico fedele e appassionato, l'assessore alla cultura Enzo Pellegrini. Siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione musicale qui ad A Tessa. Quest'anno, inventando qualcosa di diverso rispetto agli anni scorsi, siamo riusciti comunque a garantire questa ventunesima edizione. Quindi speriamo di portare avanti anche per gli anni seguenti questo importantissimo appuntamento che si svolge tutti gli anni qui ad A Tessa e che richiama un pubblico colto di questo tipo di musica da tutta la regione.